Portate i bozzoli a bordo! Sono state a marinare più che abbastanza! Ha detto marinare? Guardate, hanno preso Zia Mera! Adesso mi avete veramente stufato! Ok ragazzi, adesso vi ricambio subito il favore! Qualunque cosa tu sia, hai appena fatto un gigantesco errore! Noi l'Aimax adoriamo le temperature roventi! Perché credi che siamo venuti nel deserto in piena estate? Noi l'Aimax adoriamo! No! 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 Allora hanno paura dell'acqua Come si avrà quando era in cucina Oh, Marty, mentre era lì che mi stava inseguendo Spiacente, ma non facciamo servizio in camera qui Riportiamoli nei loro appartamenti Così penseranno che non è successo niente Ci vorranno ore ed ore Datemi un minuto Vedo se XLR8 può darci una mano Grazie a tutti